Almeno 5 persone sono morte in un attacco suicida a Kabul avvenuto vicino al Ministero della Giustizia. Testimoni hanno riferito che un uomo in una Toyota Corolla Bianca si è fatto esplodere. Secondo la polizia afghana il veicolo era nel parcheggio del Ministero ed è esploso durante l'orario di uscita. La potenza della deflagrazione è stata tale che i vetri hanno tremato fino al quartiere diplomatico della città che si trova a diversi chilometri dalla zona. L'attentato è stato rivendicato dai talebanna. Uccideremo altri servi della magistratura hanno detto. Si tratta del quinto attacco accaduto in Afghanistan in due settimane.